Scontro tra un'auto e un camion cisterna, oggi a Sona, l'incidente è avvenuto intorno alle 13 in via casette di sopra all'incrocio con la statale 11. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Una donna di 60 anni al volante dell'auto è rimasta incastrata nel veicolo in fiamme ed è deceduta. Stando quanto riferito dal conducente del camion, la Fiat Panda, guidata dalla donna, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, impattando contro il mezzo pesante. L'utilitaria alimentata a metano ha preso fuoco in pochi secondi. Intervenuti sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e la polizia stradale per i rilievi di competenza.